Ciao a tutti da Android Pit, sono Daria e oggi metteremo a confronto due dispositivi Huawei. L'ultimo è arrivato, il P7, il sottilissimo P7, e il predecessore, il P6. Vediamo quali sono le differenze tra i due e scopriamo insieme quali ci piace di più. Affiancando i due dispositivi, la prima cosa che si nota è la grandezza del P7, che ha 5 pollici, mentre il P6 4,7. Per il resto, girando i dispositivi, il P7 è ricoperto interamente di Gorilla Grass 3, mentre il P6 ha una copertura in alluminio, quindi meno riflettente, cosa che io preferisco perché il vetro segna tutte le impronte, insomma non è bellissimo. Per il resto, notiamo la fotocamera sul retro, con il flash subito sotto. Quella del P7 è leggermente sporgente, cosa che secondo me potrebbe esporla a graffi. Lateralmente, sul lato destro, notiamo i tasti del volume ed accensione, invertiti per il P7, vediamo il tasto d'accensione sotto, e gli slot per la scheda SIM e la microSD. Nel P7, lo slot per la microSD è compatibile anche con la nano SIM, messa orizzontalmente. Un'altra differenza, secondo me, migliorata, è che nel P6 abbiamo la graffetta per aprire gli slot, scusatemi non ci riesco, eccola qui, che copriva il jack delle cuffie. Il problema di questa cosa è che quando si voleva ascoltare la musica non si sapeva dove mettere questa graffetta, e quindi è molto facile da perdere. Nel P7, invece, il jack delle cuffie è in alto, mentre nel P6 troviamo l'attacco per la microUSB, che invece è sul lato inferiore nel P7. Oltre alla grandezza dello schermo, i due display si differenziano perché quello del P7 è in full HD, mentre quello del P6 in HD normale. Inoltre, la densità di pixel è più alta per il P7, con 441 pixel per pollice, mentre nel P6 sono 321. Un'altra cosa interessante da notare è che le immagini risultano leggermente più calde nel P6, se vedete, mentre più fredde e forse più luminose nel P7. Una differenza minima, ma la si nota guardando video, ad esempio, e confrontandoli tra loro. Per quanto riguarda l'interfaccia, le differenze sembrano minime, ma notiamo qualche funzione e applicazione in più nel P7. Ad esempio, se entriamo nelle impostazioni, troviamo la possibilità di visualizzare le applicazioni che usano la nostra connessione di rete, la connessione dati, e possiamo disattivarle, decidere se usare semplicemente la connessione Wi-Fi o la connessione di dati. Una cosa molto interessante che non troviamo nel P6. Inoltre, un'altra novità è la possibilità, queste sono le impostazioni che vediamo sono leggermente cambiate in meglio, scusate, sono un po' più pulite e piatte, e non hanno questi tasti terribili, a mio avviso, ma la novità di cui vi parlavo è il pulsante Sospendi, cioè è un... è questo tasto che possiamo spostare dove vogliamo, che ci dà accesso alle impostazioni veloci, che può essere molto comodo, ad esempio il tasto indietro è messo più vicino al nostro pollice, se siamo mancini possiamo metterlo dall'altro lato, e accedere velocemente alle cose più importanti. Un'altra cosa che è stata aggiunta rispetto al precedente è un gestore del telefono, un gestione telefono, in cui possiamo pulire il telefono dai file inutili o velocizzarlo cancellando i file, vedete, o disattivando le applicazioni. Una cosa molto utile, a mio avviso, piuttosto che scaricare un'applicazione aggiuntiva, ce l'abbiamo già nel telefono. Inoltre, tra gli strumenti, troviamo una lente di ingrandimento assente nel P6, che potrebbe essere una funzione interessante. Naturalmente così non vediamo il pavimento. Un'altra novità interessante, la troviamo nella fotocamera. Innanzitutto le fotocamere sono migliorate, quella posteriore del P7 è di 13 megapixel, mentre quella del P6 era di 8, mentre quella anteriore, nel P6 era di 5 megapixel, è molto potente nel P7 con ben 8 megapixel, quindi ci permette di fare delle selfie molto nitide. Tra le modalità di scatto troviamo alcune novità e possiamo anche comandare la fotocamera con la voce. È una cosa molto interessante e utile. Nel P7, inoltre, è possibile attivare la fotocamera direttamente dalla schermata, da telefono spento, selezionando due volte il tasto del volume. Scatterà automaticamente una foto. Quindi non solo l'attiviamo, ma scattiamo una foto. Quindi se ci troviamo davanti a... È un po' strano, nel senso che se abbiamo il telefono spento non sappiamo esattamente cosa stiamo puntando, però selezionando due volte il tasto del volume, scatteremo una foto. Inoltre, abbiamo una scorciatoia sulla schermata di blocco, qui, che ci permette di attivare la fotocamera direttamente. Forse è un po' più comodo. Cosa ne pensate di questo nuovo Ascend P7? Oltre ad una differenza di grandezza dello schermo e potenza della fotocamera, che comportano comunque miglioramenti nei processori, nel processore e tutto quello che ne va dietro, non notiamo grandissime differenze. Le nuove funzioni e le nuove applicazioni possono essere considerate più che altro un aggiornamento dell'interfaccia. Ma la scelta la lascio a voi. Per un prezzo di 400 euro in confronto ai 250 euro del P6, quale scegliereste? Commentate qui sotto e non dimenticatevi di iscrivervi al nostro canale. Ciao a tutti! Ciao a tutti! Ciao a tutti! Ciao a tutti!